Le colpe me le piglio tutte io, guardando in faccia le persone, chiedendo scuse e dicendo che da domani mattina lavoreremo per recuperare un po' della fiducia che è stata persa, perché io non sono come gli altri politici. Quando sbaglio lo dico, ma da qui a fare demagogia un tanto al chilo, se con la demagogia che avete messo in campo in queste ore avessimo sparso sale altrettanto, questa città sarebbe stata pulita prima. Così il sindaco Matteo Renzi risponde ai fuochi incrociati dell'opposizione nel giorno delle forche caudine in Consiglio Comunale. Renzi non ci sta a definire Firenze come capitale dell'emergenza. In Consiglio Comunale il sindaco, questa volta come esperto del foro, per spiegare da provetto avvocato o meglio per difendere, cercando di argomentare le scelte del comune, che ammette è uscito sconfitto dall'emergenza neve. Si riparte allora dai risarcimento ai cittadini, che per esempio si sono visti la macchina distrutta dai rami e che hanno subito danni per le inefficienze di Palazzo Vecchio. E si riparte soprattutto dalla ripensare la gestione dell'emergenza neve. Noi cambieremo la gestione dell'emergenza. Qua di foglio bisogna che pulisca la città e tenga pulita dai rifiuti, dai muri e da tutto quello che riguarda la città. E la neve la facciamo gestire ad altri che forse la sanno gestire meglio. Da qui al 31 gennaio presenteremo in consiglio comunale le nuove modalità di emergenza della neve, le nuove modalità di gestione della macchina comunale, i cambiamenti necessari e anche alcuni interventi immediati per portare da sei aziende a una sola tutte le varie aziende del comune. Perché noi abbiamo la sala operativa della Firenze Parcheggi, la sala operativa della Quadrifoglio, la sala operativa dell'Ataf, la sala operativa della protezione civile, la sala operativa della viabilità e poi alla fine d'operativo ci sono solo le sale. Ma dall'opposizione, anche per bocca di molti cittadini arrabbiati, qualcuno insiste a chiedere la testa dei responsabili, quei dirigenti che hanno palesemente sbagliato, dice Bianca Maria Giocoli. Se c'era un'allerta meteo magari andava fatto prima l'acquisto del sale, quindi questo secondo me deve essere responsabilizzato il dirigente che ha sbagliato e quindi forse la gente capisce con le teste che cadono. Ora finiamo di tagliare i rami, poi le teste si tagliano dopo perché le teste servono soprattutto a dare serenità ai giornalisti. E Giovanni Galli conclude con una battuta amara. Il nostro sindaco è famoso in tutto il mondo per avere pedonalizzato il Duomo e credo che adesso lo sarà ancora di più perché venerdì 17 dicembre è riuscito a pedonalizzare tutta la città.